Faccio il vetro, cioè il suo sinistro. E' la stessa cosa, guarda. Lì c'è le corde gel e nere, lì c'è le corde bianche, così. Però con la sinistra prendi l'altra che devi prendere, ecco. Alla base, non prendere il calcolo. Ora, fai forza con il destro, tutta la forza al destro. No, 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 ok, su, su, fai la stessa cosa, devi spostare i pesi. Bravo, tu. Dai, buc'è, 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 buc'è. Ma perché c'è il tuo supermero dopo il rosso? E' be', è figo, no? No, non è che prendi. Dai, Ewu. Ma lui c'è questa lì. Dai, butta, ti prendo. Bravo. Buon appetito. Dai, guarda. Guarda un po' di ormai. Sì, non c'è la caccia di chiù. Luda, come stanno le braccia? La parola. Ancora delle braccia, non me ne sento. Grazie. Grazie.